Presidente, in che modo le comunità energetiche possono rappresentare una possibile soluzione per affrontare la situazione energetica, l'indipendenza energetica? Le comunità energetiche sono una delle opzioni che possono aiutare il nostro Paese a trovare delle soluzioni per il caro energia. Naturalmente l'aspetto economico diventa meno importante di quello che può essere l'impatto etico e sociale delle comunità energetiche nelle nostre città.